cosa facciamo? maestro cosa facciamo oggi? me l'hanno chiesta nel ristorante stasera e gliela faccio una ricetta che io non ho il menu pasta e patate iniziamo a squagliare la nocciolina la nocciolina la bella noce di di cocco ma che noci? la pancetta la pancetta cioè mettete così le palle di patate direttamente dentro mettiamo le palle di patate alziamo la fiamma dell'inverno milioni di commenti ma neanche Cabilame chi è? Chiara Ferragni seconda cosa il burro fa male quando ne mettete 100 kg e infatti ma fa male quando ne mettete una nocciolina che fa una nocciolina? quando ne mettete di più c'è figuriamo come l'invenzione dei terrapiattisti che cosa? per accelerare ma scusa ma perché non l'hai tagliato prima con il coltello? a questo punto quando vedete che il burro comincia a frizzicare frizzicare? guarda come frizzica? prezzemolo verde ma esiste anche il rosso non ho capito il brodo d'acqua il brodo d'acqua questo è prima delle feste questo è buono perché sei a dieta prima delle feste il brodo d'acqua è leggero la pasta ma non è la paglia che è questa pasta così? c'è la pasta in mano quando l'hai cotta questa pasta? no che fai? oh dove ti tagli la mano? madonna mia come non cucinare una pasta che fai? che fai? che fai? che fai? madonna mia mamma mia c'è un brodo d'acqua altro brodo d'acqua altro brodo d'acqua certo per alleggerire dopo tutto quel burro la versatile ecco questa mancava e se no quali schifezze? burro e panna secondo te schifezza? sono tutti grassi polinsaturi buonissimi la pasta patata più cremosa del mondo la pasta patata è pronta andiamo ad imbiattare si andiamo ad imbiattare vediamo il grande imbiattamento da chef un piatto è il nostro piacimento è una vasca da bagno non è un piatto piacimento andiamo a imbiattare la nostra pasta patata che cremosità che cremosità che cremità che cremità guardate eh guardiamo mettete al centro del piatto ma non è al centro del piatto è letteralmente spostato signore e signori il cliente c'è il cliente me l'ha chiesto il cliente c'è nooo guardate che bellezza con questo sei il primo al mondo a dubai miglior piatto mi voglio bene le patatine fritte la mia la nostra pasta patata napoletana si attendiamo le denunce che Grazie a tutti